L'intenso traffico veicolare è sempre stato un problema per la città di Favara. Il locale corpo di polizia municipale ha più volte lamentato carenze d'organico. Pochi agenti per un territorio così vasto. La conseguenza è il frequente imbattersi in lunghi incolonnamenti dovuti spesso alla sosta selvaggia da parte degli automobilisti. Da qualche mese però, nel centralissimo Corso Vittorio Veneto, a regolamentare il flusso dei veicoli in transito, ci pensa una buca. Non scherziamo, è proprio così. Una profonda buca stradale che c'è stata segnalata da cittadini come pericolosa ma che per noi, ironicamente, promuoviamo al grado di agente scelto. E vi spieghiamo il perché. Ci troviamo nei pressi del succursale Ufficio Postale di Favara. In zona sono presenti anche diverse attività commerciali ed una farmacia, quindi una zona dove è facile che si creino ingorghi al traffico. La profonda buca, che è realmente pericolosa, costringe i mezzi in transito a fermarsi e invadere la carreggiata opposta per superare l'ostacolo. Insomma, una vera e propria direzione del traffico con tanto di precedenze e stop. Quella di Corso Vittorio Veneto è un problema comune alla stragrande maggioranza della rete stradale cittadina. Sono migliaia le arterie che necessitano di interventi più o meno urgenti. Alla nostra redazione sono state segnalate anche altre due pericoli presenti in altrettante strade che potrebbero sembrare secondarie ma che per la loro posizione sono abbastanza frequentate. Parliamo di via Sottotenente Castellana, la strada che dal quartiere San Calogero porta verso la scuola elementare Palmoliva. Questo problema era già stato segnalato dagli abitanti di Vicolo 8 Marzo ma ad oggi dal comune nessun intervento. L'altra pericolosa buca, dove già stanno i racconti di alcuni abitanti diversi automobilisti hanno causato danni alle proprie vetture, si trova invece in via Caracciolo. La strada costeggia sempre la scuola elementare Palmoliva. I cittadini rassegnati chiedono l'intervento urgente dell'assessore comunale ai lavori pubblici. Giuseppe Caramanno è il nome dell'assessore competente. La precisazione sul nome è dovuta alle tante richieste sulla sua identità pervenuteci in redazione.